ciao benvenuto a questo aggiornamento di analisi per quanto riguarda il nasdaq considerando che i mercati sono fermi in totale lateralità qui siamo sul weekly del nasdaq che siamo praticamente inchiodati da quattro settimane quindi da un mese siamo dentro a 500 punti ho pensato di fare un analisi usando il time frame settimanale partendo più o meno dal 2014 per prendere in considerazione un qualcosa che si è ripetuto con costanza partendo dal 2014 in realtà potevo andare indietro ancora di un paio d'anni ma tanto poco cambia e questa alternanza tra cicli di una durata più ampia seguito poi da una durata inferiore superiore inferiore superiore e superiore quindi ci dovremmo aspettare un successivo ciclo un po più un po più diciamo duratura rispetto a quello precedente prima di ovviamente proseguire come sempre ti invito a iscriverti al mio sito no non c'è da iscriversi non si può perché nei mail non raccolgo a unirsi al canale telegram che trovi sul mio sito il trading per tutti puntocom io non prendo le email delle persone per spammarle e come fanno praticamente quasi tutti gli operatori di internet o il mio canale telegram così si libero di togliere le sonnerie guardare non guardare riceverai il aggiornamento della mia operatività con la mia analisi e riceverai anche le analisi predittive ti do un'anteprima ho già aperto un nuovo canale youtube non è ancora visibile al pubblico mi hanno clonato tutti i miei programmi formativi quindi parliamo di 17 anni di sangue che ho spuntato sui mercati ok al di là di augurare ogni male naturalmente a colui che ha fatto ciò e non mi vergogno di dirlo di augurare ogni male a colui che ha fatto colui o con lei con loro non so che siano che hanno fatto ciò e tutto e quindi il tutto il mio programma formativo lo stanno vendendo a 114 euro adesso magari vorrei correre a comprarlo lascia stare perché sto mettendo tutto completamente gratis su youtube che cosa vuol dire che avrai 70 ore di formazione che non troverai da nessuna parte completamente gratis analisi ciclica analisi volumetrica e tutta la price action nuova quella sono altre più o meno dieci ore che sto però ancora mettendo insieme quindi avrai a disposizione circa 80 ore di formazione ma quella che si pagava fino a quando ho scoperto che mi hanno clonato il tutto ok e farò poi un video apposto dedicato a questa cosa qua creerò un canale discord il canale premium si sarà a pagamento perché perché la formazione tutta gratis però per essere dentro al canale sarà pagamento ma attenzione attenzione per la mega cifra di 20 euro al mese ma in quei 20 euro al mese io sarò chiaramente presente si lavorerà insieme non invio i segnali segnali rimangono a parte però e sarà una community allucinante dove si graderà insieme dove farò veramente scuola sempre tutti i sacrosanti giorni senza spendere un centesimo in più di quei 20 euro al mese chiaramente se li vorrai spendere sul mio sito chiaramente ti invito a visualizzare il segnale intraday come servizio il volt time e quant'altro ma voglio passare subito all'analisi l'indicatore non me l'ho ancora clonato e se me lo cloneranno pacea ma intanto sto costruendo ci vorrà un anno circa la piattaforma web quella non potranno fare niente quindi una piattaforma di analisi ciclica analisi volumetrica esclusiva creata da me ok allora e mettendo il pannello il ciclo da 18 mesi quindi sono andato a prendere sul time frame settimanale un ciclo a 18 mesi non starò a tracciare trend line robe varie perché soltanto per vedere questa diciamo ripetizione tutto ciò la puoi vedere solo con l'analisi ciclica con la vera ossia quella che non ha interruzione non quella che per far quadrare i conti il ciclo viene interrotto c'è una parte senza tempo che non esiste e poi lo si fa le parti ma che non funziona così chiaramente l'analisi ciclica ma lo imparerai nel corso gratuito e la durata media di un ciclo da 18 mesi è di 78 settimane 80 settimane sarebbe la durata diciamo di 18 mesi in realtà in questi dieci anni poco meno e anzi si può sì perché manca 10 giorni praticamente 15 ai dieci anni la durata media 78 qua espressa in giorni come puoi vedere vado a togliere il pannellino e con la partenza del 13 aprile 473 il primo diciamo ciclo che l'indicatore è andato a calcolare 331 il secondo 4 e 31 il terzo 3 e 38 il quarto quindi sono più o meno alternati uguali no grosso modo come è durata 478 quindi anche questo più grande c'è più duratura più esteso rispetto al precedente più corto quello successivo quindi cosa ci dobbiamo aspettare io direi una componente ciclica superiore ai 400 giorni perché l'indicatore mi va a proiettare chiaramente nel futuro questo valore qua espresso in giorni quindi la durata media espressa in giorni però tenendo presente che abbiamo avuto questa alternanza di cicli più più con un periodo più lungo alternato un periodo più corto più lungo più corto più lungo più corto direi che se dovesse mantenersi questa circostanza e perché no considerando che abbiamo dieci anni di storico e già all'interno 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 componenti cicliche inclusa questo ok perché non ci dovremmo aspettare lo stesso quindi cosa vuol dire vuol dire che il minimo che attualmente è previsto per il 27 ottobre per quanto riguarda un ciclo attenzione però da 18 mesi potrebbe anche estendersi di più nel tempo spero che non si sia scollegato inter perché il vps sia spento quindi da un punto di vista temporale in realtà il mercato potrebbe anche ancora estendersi ok nel tempo quindi se dare un po e l'informazione che stia per saltare ancora una volta una fase ribassista però alla luce di ciò ci possiamo aspettare un ciclo che più o meno mantenendo grosso modo una durata anche solo di quello più corto di 431 ok sono anche solo 400 più o meno 31 capisci che avremo una durata un po più estesa 438 431 non cambia niente lo lascio 438 più estesa rispetto c'è più là nel tempo rispetto a quello che è invece la previsione data dalla durata standard media e negli anni per quanto riguarda un ciclo a 18 mesi andiamo ad aggiungere anche un ciclo da 40 settimane e 40 settimane ci fa vedere che in realtà siamo arrivati quello si vede molto meglio siamo arrivati su quella che è un'area di picco e abbiamo il prossimo minimo previsto per il 14 di luglio quindi abbiamo una bella spinta ribassista ecco perché io come si dice mi aspetto che il mercato possa fare un uno storno chiaramente al momento di segnali zero totali perché adesso vado ad aggiungere le mie medie mobili cicliche ho preso vedete che il mercato completamente long cioè non c'è motivo per entrare short in multidale per quanto riguarda il nasdaq diamo una misurata 275 23 in realtà abbiamo ancora un 300 punti di rialzo da poter fare per allontanarci come l'ultimo swing e guardiamo quanto è stato in termini di punti stiamo parlando di un più 37 per cento in termini percentuali e in termini invece punti 4408 ok 4408 questo swing invece del 30 per cento di 4280 quindi se guardiamo la durata di questo swing perché questo per me è un altro swing qui lo ha fatto un ritracciamento anche profondo se andiamo a vedere perché sembra niente ma in realtà su una piccola salita ha ritracciato comunque del 50 per cento quindi io considero un assolutamente un ciclo un ciclo scusatemi uno swing a sé in realtà ci mancano circa 200 punti non di più se andiamo a prendere un'estensione guardiamo un po' se vedete che siamo in pieno tp2 preso no forse no preso sì esatto preso in pieno il tp2 di questo swing quindi ed è il tp più probabile il tp2 ok quindi potremmo anche considerare il nasdaq bello che è arrivato cioè che potrebbe già starci l'idea l'ipotesi perché qui in questo caso si parla di ipotesi di poter iniziare a vedere una fase di storno vedremo tra nella giornata di lunedì se ciò accadrà oppure no con questo direi che è tutto ti auguro una buona serata ciao ciao